Dopo oltre un mese di ricerca, gli uffici comunali di Arzignano e degli altri comuni della Vallata sono riusciti a rintracciare buona parte degli eredi viventi dei decorati al valore militare della Prima Guerra Mondiale. Quindi rinnovo l'invito a tutta la popolazione a partecipare a questo grande evento che si terrà al nostro Teatro Mattarello di Arzignano alle ore 10.30 di sabato, dove consegneremo ai discendenti dei decorati questo volume storico degli anni 20 che appunto ricorda tutti i valorosi decorati al valore militare della provincia di Vicenza.